Bella a tutti ragazzi, eccoci qua con un nuovo video, sono Mark Hamer, oggi siamo qui con un nuovo comple di GTA V, che cazzo fai? C'è anche la mia ragazza che sta giocando lei e adesso parlerai lei perché mi sono giocato. Io, non è vero. Cosa stai facendo? Dove stai andando? Io da nessuna parte. Allora ragazzi, vi voglio dire che spiega cos'è che hai in mano, guarda che si arrampica sui muri. Io ho un Kawasaki KX sotto il mezzo, ehm. Con chi tempi ha? 20? 4 tempi. Eh? 4 tempi. Quattro. Dove è che tu andai? In casa. Ma questa qua è la casa di Corioli e Michael. Sì, esatto. Vero? Sì. Ma tu non sai Michael. Eh vabbè. Eh no. Eh vabbè, è un po' Non riesco a uscire. Ma dove stai? Vai dritto, vai dritto. No, quella dove c'è. Vai dritto. Primo. Gira a sinistra. Sì. Sì, è un po' Ma come ti fa? Ma che cosa dovremmo fare in questo? Niente, cazzeggiare come stai facendo tu, guarda. Porca Eva che macchina. Sì, ma hai in mano un Kawasaki da cross. Sì, sì. Non è bella. Come è la tua casa? Dai, io vado a fare un po' Sì. Bene, i pali sono tuoi. No, fammi. Sì, non è bella. Tipo la parte della stessa. Ma qua dice che sono arrivate. Ma la parcheggia anche, ma che bravo. Qua, devo entrare su come c'è il sale qua. Gira la visuale e va. Ok. Là a sinistra, dove c'è il tipo a sinistra. Sinistra. Là a destra. Non so, dovevi accedere però. Esci, ora. Non so, dovevi accedere però. Sì. Entra. Entra, ok. Devi sparare. Sì, come si? Aspetta. Vuole pistole, mitra, cucina asfalto, cucina asfalto, cucina asfalto, mitra, cucina leggera. Mitra. Vai. Scegli quale. Io lo faccio tutto. Sì. Adesso miri e questo qua spari. Non devi andare avanti, devi solamente, ecco, va. Bene. Bene. Non lo ho. Ne hai beccato tanto. Non si vede niente. Ma qua era un gioco. Oh. Beh, sì, il bersaglio era proprio lì. Guarda che non c'è più lì, eh. È proprio lì. Brava. Ma come? Non ne hai preso nemmeno uno. No, uno l'ho preso. Uno. No, non è vero. Guarda, guarda, il risultato. Che bravo. Eh, cosa? E vedi che ho preso anche il giallo. Cosa? Il giallo, guarda. Vedi? Tutta, dai. Dai. Cosa? Uuuuuh. Proprio lìa, il giallo. Non mi ricordo come si mi era. Ah, qua, qua. No, il pregatti. Eh, vabbè. Però non è capace. Proprio lì. Sì, quando l'hai girato, non c'entra nulla. Brava. No? Eh, ciao. Aspetta. Scusa, ti posso far vedere come si giocava. No, il maestro. Guarda. Il maestro. Non è così difficile. Allora. Scusa, ti posso far vedere come si giocava, non c'entra nulla, non c'entra nulla, non c'entra nulla, non c'entra nulla. Sembra quella di Sifat Squad. Eh, vabbè, ma te non... Te, cosa? Non lo so, io. Dai, fai una altra attività, va. Sì. Prego. Io. Prego. ma dove si? ah, schiaccia start aspetta che parcheggio hai già fatto per una macchina guarda che start non esce oddio, ma hai visto come... bellissimo start e x ora vedremo delle cose tipo che personaggio muore sicuro come loro guarda 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 andiamo sopra dove ci sono il grattaceto si ah è a volare a girare nooo apri x nooo se vuoi se rischiaccia ancora la x c'è un altro paracaduto se rischiaccia ancora il triangolo c'è un altro paracaduto si a fare level 1 no puoi andare in caduta libera guarda vedi poi adesso si e no 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 ops bene ragazzi il video è finito mi raccomando mi raccomando mi raccomando iscrivetevi al canale mettete mi piace e se volete commentate adesso bravissima e cosa devono dire se commentano ah che cosa volete per il prossimo video e soprattutto siete deboli di cuore non guardate questo video abbiamo massacrato un personaggio però vabbè quanto male ebbene ciao a tutti e al prossimo video ciao